Ah ragazzi, se guarderete Metro da PC, guardate un po'. Oh, ingloriosi 4K. Questo gioco, ragazzi, vi fa cadere la mascella, è veramente assurdo. Ragazzi, è iniziato Metro Exodus, un gioco che io vi consiglio di andare a vedere perché merita, merita veramente. Almeno la prima puntata, anche perché è spettacolare. Sicuramente un'altra puntata ve la metto. Ecco, spiegate ragazzi di queste. Oggi a 15 escono tutti i giochi, non so quanti giochi escono oggi. Tra l'altro io ho un sacco di video, perché ho anche Far Cry, avrei FIFA, Fuoriclasse 2, i premi, tanta roba, però non so quando farveli uscire. ...di Far Cry. Avete presente quella musichetta carina che c'era in live, che mi sono messo a ballare come un coglione? Bene, quella me l'ha bloccata in tutto il mondo. Ho dovuto togliere quel pezzo e lo sto rirenderizzando e poi lo devo ricaricare. Bello, bloccato in tutto il mondo. Niente ragazzi, ho dovuto rimuovere il video delle 19.30 di Far Cry, perché? Perché non era andato in feed. E è la seconda volta, pure ieri, la stessa cosa. In 5 minuti l'hanno visto neanche 500 persone. Ora, non faccio in tempo a ricaricarvelo. Più un orario decente a farvelo vedere oggi. A me dispiace ragazzi, perché sono stato tutto il giorno, non ho pranzato e non è una scusa per fare il pietoso, ma ho grindato come un pazzo per farvi avere comunque due di metro e uno dei Far Cry e poi succedono queste cose. A me dispiace un sacco. Purtroppo, questo fa capire un po' che a volte uno può fare quello che gli pare, però poi dopo se la piattaforma non ti supporta, fanno bene quelli che se ne vanno su Twitch. Fanno proprio bene, guarda. Quindi ragazzi, ve lo metto domani, mi dispiace tanto, scusate. Però ragazzi, ho spacchettato, ho trovato tutto! Una cosa assurda! Vabbè, meglio così, meglio così. Domani lo vedrete. Se YouTube vuole, domani lo vedete. E niente ragazzi, questa sera è così, tra una registrazione e l'altra. Ma che cacchia queste nopene? È mia moglie ragazzi che mi costringe. Ma che ti ha detto niente? Teresa e Gemma. Ciao ragazzi, prima di andare a letto vi do uno spoiler. È fresco fresco, eh? Fresco fresco. Icon fresca, tutto fresco. Se ce la famo, eh? Tutto fresco. È fresco fresco.